Kili e Minogue nella bufera per un lato B troppo bello per essere vero Kili e Minogue è una splendida cantante australiana che ha riempito gli anni 2000 con una sua musica troppo khaki e i suoi outfit sempre sexy Alla soglia dei 50, la bella Kili e si è concessa un calendario per riempire le giornate dei suoi fan, ma la bufera è arrivata subito. Troppo Photoshop? Lei si difende così Kili e Minogue, troppo sexy per essere vera? L'occhio allenato dei fan su Instagram riesce a scorgere anche le più piccole tracce di Photoshop Kili e Minogue ha sempre fatto del suo lato B un motivo di orgoglio, ma la perfezione raggiunta dall'ultimo scatto per il suo calendario promozionale ha dato di che pensare La foto la ritrae con addosso un paio di shorts a vita alta e una t-shirt grigia cropped, mentre si gode la brezza del balcone dell'hotel Chateau Marmont di Los Angeles Nello scatto incriminato, la pop star è piegata sul parapetto in muratura e ammicca maliziosa alla telecamera, mentre il suo lato B svetta fiero, sicuro, compatto, uniforme e pieno contro i muri di stiucco I primi a notare che qualcosa non andava sono stati, naturalmente, i più malfidenti. Se osserviamo bene la foto, infatti, noteremo che il lato B di Chilie si trova davanti ad un'ombra sul muro Proprio in prossimità del derriere, però, quest'ombra subisce una curva misteriosa che lascia presagire un cattivo lavoro di Photoshop La risposta di Chilie Minogue Lannosa questione del giorno è la seguente, si è trattato forse di una cattiva operazione di fotoritocco, segnalata immediatamente dalla polizia di Photoshop, oppure non è altro che un'ombra sul muro di stiucchi, dalle connotazioni solitamente irregolari? Chilie Minogue non è rimasta in silenzio Lei, che per il suo corpo da urlo lavora ogni giorno, ha alzato la voce e si è difesa senza rancore Solo una punta di ironia, cancelletto lovers, avete gli occhi di Falco. Chiederò all'hotel Chateau Marmont di raddrizzare i muri, anche se secondo me fanno parte del suo fascino. Grazie per essere sempre sul pezzo. Una risposta da signora B è che affermazioni di chi non ha fatto caso alla luce del sole che batte sul muro Tra una critica e l'altra, però, è davvero difficile non notare che, fotoritocco o meno, la forma fisica di Chilie Minogue all'età di 49 anni è ancora all'apici, assolutamente da invidia Oltre ai commenti più crudeli, infatti, ci sono anche quelli dei suoi lovers, quelli veri, che la osannano come una dea e la considerano una delle donne più belle del mondo Del resto, l'abbiamo conosciuta con addosso un paio di shorts minimali dorati nel suo singolo di successo Spinning Around, e da allora le sue canzoni non hanno mai lasciato del tutto la nostra mente Dal canto suo, Chilie è ben consapevole che il suo lato B è fonte di grande ammirazione, disquisizione e soprattutto la resa ciò che è La pop star, però, affronta la questione in maniera molto umile, e ha spiegato più volte che preferisce mostrare il suo lato B solo quando si trova sotto la luce migliore Insomma, Chilie è un'esperta di lato B da molto prima che le Kardashian mettessero i loro pedini che calzano Gucci nel mondo dello spettacolo. Tutto il resto? Speculazioni Insomma, Chilie è un'esperta di fare